Tutto sembra già scritto. Venerdì la Commissione europea dovrebbe lanciare una nuova messa in mora contro l'Italia per non aver dato esecuzione alle prescrizioni europee per l'eradicazione, il contenimento e il monitoraggio dell'axilella fastidiosa, il batterio considerato responsabile del dissecamento degli olivi nel Salento. La nuova messa in mora è il primo stadio della procedura di infrazione comunitaria e dovrebbe aggiornare e sostituire quella già comunicata mesi fa. Ad informare il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina è stato il commissario europeo responsabile per la sicurezza alimentare, Vitniss Andriukaitis, nell'incontro tenutosi a Bruxelles nelle scorse ore. Estremamente importante che l'Italia applichi in pieno la decisione europea e fermi l'espansione dell'axilella, ha detto Andriukaitis, e a meno che non sia intraprese un accenno immediato contro il batterio, la Commissione non avrà altra scelta che lanciare una procedura di infrazione. Nella nuova messa in mora tuttavia qualcosa dovrebbe cambiare, non dovrebbe esserci più la richiesta dell'Unione Europea di abbattere tutte le piante ospiti del batterio in un raggio di 100 metri attorno agli olivi attaccati dall'axilella, nella fascia a cavallo tra le province di Lecce e Brindisi. Questo obbligo si applicherebbe così solo ai focolai puntiformi esterni alla stessa zona infetta. Questo, almeno, dicono le indiscrezioni trapelate dopo il vertice. Come sapete, per noi la questione è molto complessa. Io sono il primo, ha detto il ministro Martina, ad essere preoccupato di come in Puglia stanno andando le cose. Sappiamo della complessità della situazione data anche dalle vicende giudiziarie. Poi, la stoccata di Emiliano. Si sono fatte delle cose, certamente bisogna insistere, ha continuato Martina. Abbiamo bisogno di avere la regione Puglia in campo da protagonista ancora di più, sempre meglio. E questo sarà un tema anche nelle prossime giornate. A chi chiedeva come mai non si installino le reti antinsetto per impedire il passaggio della sputacchina in alternativa all'abbattimento degli alberi, Martina ha risposto seccato che quando si profilano soluzioni di carattere tecnico-scientifico vanno valutate da chi ha le competenze. Sono misura concluso che hanno impatti tutt'altro che insignificanti e se siamo arrivati fin qui è perché abbiamo troppo spesso agito con superficialità.